comunque ragazzi non si sente proprio no la macchina scusatemi sono emozionato non si sente proprio la macchina quando si accende mettiamo la cintura di sicurezza allora cintura di sicurezza allora adesso andiamo all'Ile San Luis andiamo a prendere le medicine e poi ritorniamo a casa musica in the countdown dream and forever wow wow allora adesso andiamo a diritto di qua questo qua è un altro museo però non posso inquadrare purtroppo tutto è bello da andarci allora praticamente la strada che sto facendo adesso è che arriva al villaggio San Polo Ponef e quindi dopo arriviamo praticamente all'Ile San Luis in poche parole dove abitavamo prima perché ho rimasto la farmacia lì proprio per prima di tutto perché è scendata Cristiano e poi perché mi conviene ehm guarda possiamo scendere anche di qua music 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 andiamo a vedere il concetto di madonna ehm Viago mi ha mandato il il messaggio che è arrivato il biglietto questo biglietto però ancora sono otto giorni sono passati otto giorni che ancora deve arrivare comunque andiamo a vedere il concetto di madonna già iniziato il 9 settembre a farlo già una marea di video su youtube io sto aspettando di fare il video con l'arrivo del biglietto ehm quest'anno faremo molte cose andremo a New York a a a a Natale quindi ci faremo il Natale la poi abbiamo deciso anche di andare ai Caraibi però purtroppo è nato un problema che non ci sono hotel a disposizione sta diventando tutto un casino e quindi non so se veramente la riusciamo poi ad andare anche ai Caraibi comunque allora voi avete qui la chiave che è praticamente legata non si può togliere la chiave però lo stesso quando potete quando fermate la macchina lo stesso voi potete chiudere la macchina diciamo premendo qui sul sul cursore che chiude la macchina passando la scheda sul cursore in modo che chiude la macchina logicamente ho fatto anche un piccolo errore dovevo andare semplicemente più avanti per prendere l'altra stradina del cazzo come merda vabbò vabbò non è non è al forever yeah get the music Lord Brema you never dance to my baby you never music start na 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 get the second crazy music allora sto facendo anche compagnia con un po' di fondo musicale creato da me ma prima quando vengo a cussare sta sfuggiare la stagione a teca e con tutto il tempo che ho messo per prendere la macchina capire come funzionava già ho perso mezz'ora solo per capire come funzionava quindi vi lascio immaginare sta giornata sarà molto costosa però è il primo giorno quindi abbiamo familiarizzato un po' con la macchina io la ritengo veramente una cosa eccezionale ad essere sincero ma da muri a vecchia casa quello che è passato è francese non so se riuscite a sentire il rumore di queste acque di queste fontane comunque ha un'accelerazione ha un'accelerazione fantastica ragazzi la macchina un'accelerazione e una frenata fantastica addirittura poi quando per evitare l'incidente vi segnala che ci sta un problema davanti e vi fa il beep dice guarda io state accorto vediamo po' che stai facendo a buttare stai facendo le macchine voilà allora qui andiamo lo c'è lo c'è lo c'è c'è ci ci ha manlà musica 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 Grazie a tutti.